Ciao dei target di benvenuto nel nuovo video Allora oggi andiamo a fare la pesta Esatto Mamma mia Vieni a me prendere Sì, allora oggi facciamo la spesa E vi portiamo con noi Andiamo a fare la spesa in un posto Abbastanza grande Quindi abbiamo deciso insomma di portarvi con noi E niente Speriamo che questo video vi piacerà Sì, speriamo tanto che questo video vi piacerà E noi andiamo all'insegna del divertimento Vero? Mi devi aiutare a scendere bene, eh, signorina. È vero? Lo faccio io per me. Apri. Siamo arrivati. Allora, abbiamo già preso qualche cosina. Mamma mia. Mamma mia, che stiamo cercando? Gambo. Vieni, andiamo a vedere se stanno di qua. Mi sa che abbiamo trovato il tè, però. Che cosa? Sanca? Oh, che carini. Sono neri. Guarda, Lara. Le coppette nere. Carine. Che cos'è? Uh, buoni. Mi abbatto. Che cos'è? Cos'è? Masce e orso. Va bene. Vieni. Vai, prendili. Ok, sto prendendo un sacco. Vieni, piccola. Vieni, reggiti qui, però. Va bene. Sto prendendo tutte le cose che ci servono per i prossimi giorni, quindi qua, qua, qua. Aiuto. Aiuto. Siamo arrivati a una parte brutta. Aiuto. Uh, ci sono gli skittles. Questi piacciono da Ale. Li prendiamo per l'Ale? No, questi qua rossi. Sì. Vai, prendili per Ale. Per te e per Ale. No, no, no. Uno solo. Uno solo. Ve li dividete. Ma anche per l'Ale. Sì, venite, vedete, tra te e Ale. Sì. Brava. Così, non è male. Va bene. Ok. Let's go. Ok, io invece sto scegliendo i cereali. Che sono un bel po'. Un bacchetto. Un bello da mamma. Io sto scegliendo dei cereali perché... Un bacchetto, non è molto bene. Baccio, baccio, baccio. Non muore di più. Mamma mia, c'è stanca. C'è stanca, piccola, c'è ragione. Allora, prendo delle barrette di cioccolato e ho fatto. Ah, eccole. Le pennettine lisce, piccole, piccole. Sì. Vai, mettile dentro. Le pennettine. Sì. Oh oh. C'è ne so. Abbiamo preso un sacco di cose. Questo invece è un reparto che piace a me. Perché io praticamente tutte le mattine bevo l'acee, quindi andiamo di l'acee. Quale è l'acee? Quella lì. Formato magnum. Questo? Sì. Vai, vai, prendilo. Oh le. Madonna, come farò a portarmi tutta sta roba a casa? Aiuto. Carino. La bottiglia del Pompeo rosa è tutta rosa. Carino. Qualcuno è stanco, quindi andiamo in braccio. Allora, oddio, c'è la mini Coca Cola qui. Bene, dobbiamo cercare. Allora, facciamo il check. Abbiamo preso il latte? Sì. Sì. Abbiamo preso il tonno? Sì. Abbiamo preso il tonno? Sì. Che manca? Niente. Niente. Ottimo. Siamo tornati verso casa. Adesso stiamo aspettando l'ascensore. Ho portato le buste. Sono solo due. Pesa un botto. Però, ce l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo comprato dei play-doh. Abbiamo trovato dei play-doh e figurati se qualcuno non si è subito affezionata. Allora, vi mostro anche cosa ho preso. Vuoi le caramelle dei masce d'orso? No, io voglio le caramelle. Allora, abbiamo trovato le caramelle di masce d'orso. Ah, ecco l'ascensore. Assaggiamo per la prima volta in diretta con voi. Sei pronta? Uno si tolta a te. Acchiettala a me. Cin cin. Buono, è frutta. È frutta. Buono belle. Buono. 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 Io ti ho aspettato di usare il cioccolato. Non ce ne me vence. Comunque, per essere la prima volta che vi faccio un video di questo tipo, di andare da sola con Lara a fare la spesa, devo dire che non è andato malaccio. Pensavo peggio. Allora, ho comprato palesini, perché questi li divoro io quando vado di fretta. Sono i miei biscotti, uno dei miei biscotti preferiti, perché non mi fanno stare male alla pancina e sono leggeri, sono buoni. Poi, questi li ha voluti Lara. Credo che devo, sì, congelare in freezer. Sono gli è stata da congelare in freezer. Dovete congelare i vostri nel congelatore, perché altrimenti non si fanno bene. Quindi congelate tutto, congelate senza problemi, tutto, e congelate, e congelate, e congelate. Abbiamo congelato tutto. Beh. Poi, pancarrè, questo lo uso per Lara. Vi faccio il panino. Poi, questa, l'ace confezione famiglia per me, perché io la mattina ci faccio colazio a una. Abbiamo preso anche l'estate, che questo piace a me, piace ad Ale e piace a Lara, piace a tutti quanti l'estate. Il tè del pomeriggio, in pratica. Poi ho preso uno dei miei yogurt preferiti, questi qua, io ne mangio un sacco, sono i yogurt alla banana. Sono un po' pesantini, effettivamente alla banana, ma mi piacciono un sacco. Ai miei pupi, perché questi, di solito, li assaggio anche a Ale, però sono più che altro per Lara. Poi, la pasta piccolina, la pasta, anche se ne avevo già un sacco di pasta, però ogni tanto vado e faccio comunque, cioè, piano piano mi faccio la scorta, praticamente, che così almeno ce l'ho. Ok, per quanto riguarda le uova, le metto per la prima volta, oltretutto, la che sto in questa casa, le metterò nel porta uova. È la prima volta che la faccio questa cosa, perché non sapevo che si dovessero fare così le uova. caruzzo, caruzzo, bellina questa cosa, oddio, c'ho il mio porta uova personale, mi sento così, così, copiliccio, che cosa bella, sì, piccoli con queste, avere il proprio porta uova personale, perché poi ce l'ho sempre avuto, ma non l'ho mai spuffato, però questo me lo dovrei tenere, perché devo sapere quanto scade, quindi facciamo così, qua che c'è scritto, da consumarsi, e il drovere e filibili, il monte, ovvero questo, lo metto qui ne, qui in mezzo, non sono bellissime, siete belle, belline, comunque sì, no, pensavo peggio, veramente, pensavo davvero peggio, che sarebbe stato molto peggio oggi, il tutto, invece no, poi non capisco perché ho appena questo, che cuore, quando, vabbè, comunque, questo ci viene rimasto attaccato a Lara, quante cose che sono rimaste attaccate a Lara, questo è rimasto attaccato a Lara, lei ogni tanto rimangio, due confezioni di tonno, perché sì, sistema la cucina, e ci vediamo, ciao, per i saluti, ciao!